www.moriziapoly.it, educazione finanziaria, finanza comportamentale, ma i dati, i numeri. Dal panico del 5 di agosto del 2024 a ieri, il 19 di agosto, questi sono i numeri. NVIDIA più 43%, Tesla più 22%, Meta più 18%, Amazon più 18%, Netflix più 17%, Apple più 15%, Nasdaq più 14%, Standard & Poor's 500 più 10%, Microsoft più di 9%, Google più 8%. Dice che la storia non si ripete, ma l'irrazionalità nei nostri comportamenti sì. Medie emozioni, sì, 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 più razionalità nei propri investimenti, più fiducia nelle proprie scelte, nelle proprie planificazioni, anche per il futuro. Buon agosto, alla prossima!